Non abbia capito, no? Come funziona? Kishima, Gamba, Kawasaki, sono attraverso l'interno e non è possibile. Credo che questo sia normale. Allora, quando si affronta le prime, non è più facile. La cosa positiva è chiaro che quando si gioca contro queste squadre ci vuole anche perché abbiamo affrontato Kishima che era in ottime condizioni. 今 siamo alle tie, e anche dopo qualche volta, noi ci avessiamo i confronti Kendall, e noi abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo? E quindi, è chiaro che la vittoria che è venuta fuori è stata una vittoria di grande sacrificio. Vincere non prendendo gol, sempre farà... è la possibilità di finalizzare meglio tutte le possibilità che abbiamo avuto incontro piede? Qua casa mi ha preso, il nome della giustina, il nome dei controlli, il nome della giustina e il nome della giusta della giusta dalla città. Per il nome della giusta della giusta della giusta della giusta di to Radia, non ma non è ancora senza il rischio attacca. Non ci sono tanti giocatori, ma scuola forte. Non ci sono tanti giocatori, ma non ci sono tanti giocatori. E quindi rimane sempre una delle squadre più forti per tradizione e per qualità. Non ci sono tanti giocatori, ma non ci sono tanti giocatori, ma non ci sono tanti giocatori. Questi allenatori hanno vinto tanto negli anni passati, hanno fatto sempre molto bene. Quindi affrontiamo una squadra sicuramente che avrà grande aggressività, grande voglia di vincere. Noi dobbiamo essere pronti a questo. Noi, sono tanti giocatori, ma non ci sono tanti giocatori. Ma non ci sono tanti giocatori, ma non ci sono tanti giocatori. Ma non ci sono tanti giocatori, ma non ci sono tanti giocatori, ma non ci sono tanti giocatori. Ma non ci sono tanti giocatori, ma non ci sono tanti giocatori, ma non ci sono tanti giocatori. Sette giocatori, ma non ci sono tanti giocatori. e che vi consiglio di essere potente e che vi consiglio di essere potente Ok? Grazie